Sicuramente sono 550 metri che potrebbero sembrare ininfluenti ma sono molto importanti per la viabilità del territorio. Poi io in questo intervento amo sottolineare l'importante sinergia e la collaborazione che c'è stato tra enti perché se così non fosse stato oggi non saremmo qui ad inaugurare. C'è soddisfazione nell'Alta Padovana per la nuova bretella di collegamento del centro di biotrattamenti di ETA SPA con la strada provinciale 31 del Muson Vecchio e la strada regionale 308, la nuova strada del Santo. Un'opera realizzata in sei mesi ma attesa da molti anni che permette di sgravare molto traffico dalle strade comunali di Campo San Piero. Oggi poter dirottare parte del traffico, soprattutto pesante, verso est bypassando una zona più vicina al centro abitato che ricade su via Straelle e su un'altra via comunale che oggi è particolarmente appesantita appunto dall'uscita e ingresso sulla 308. L'opera realizzata da Veneto Strade con un finanziamento regionale di 650 mila euro si sviluppa su quella che era la strada che portava al centro di biotrattamento di ETA. Abbiamo un impianto, uno dei impianti più grossi della nostra azienda, proprio servito da questa strada che ricordo inizialmente è una strada che era dedicata solamente al nostro impianto di biotrattamento. Adesso però assume una valenza, tanto è vero che diventerà provinciale, anche sul piano della viabilità perché diventa un'uscita all'entrata rispetto alla nuova 308 e quindi va a sollevare dal traffico una parte di via Straelle verso il centro di Campo San Piero. La competenza della strada ora passa alla provincia. La provincia di fatto diventerà il gestore di questa nuova arteria stradale che collega appunto la strada provinciale Campo San Piero-Noale con la 308 evitando al traffico pesante ma anche tutto il traffico di attraversamento di passare per il centro di Campo San Piero o saltando anche qualche incrocio pericoloso che negli anni purtroppo ha creato qualche incidente.